Fa freschetto eh? Non sembrava stamattina? Ma vabbè, fino a stasera sia giusta. O a proposito, stasera ci vediamo. No, questa sera. Stasera ho la riunione. Che ci dobbiamo vedere. Finiamo tardi. Tardissimo. Che là è roba anche magari che arriviamo pure fino all'alba. Scusa, ma non ce l'avevi anche ieri sera? Sì, infatti abbiamo fatto ieri la riunione e abbiamo finito pure ieri che erano le 5 e le 6 del mattino. Però dobbiamo continuare proprio stasera. Allora, ci vediamo domani sera. Eh no, domani c'è un'altra riunione. Quando sono le riunioni sono così. Non si sa quando si inizia, non si sa quando si finisce. Ma fan capire tu quando dormi. Alle riunioni. Quando dormi. Ah, che sì.